Ciao ragazzi, benvenuti su Giovanacchi Clamoford, oggi si gioca con HeadBall Che da un po' che non ci giochi ci devo riprendere la mano Qui c'è il Fufi, il viola, anche Alessia chiamatelo come vi pare La ruota, si gira, si gira, giriamo, giriamo No, 12, 12, 12, 12, hai visto? 12, 12 Sì, via, mi fai girare di nuovo, mi fa girare di nuovo Certo che si sente la voce Adesso non carica neanche la pubblicità da quanto fa schifo Inter Intanto parliamo del più e del meno Ti piacciono le caramelle? Ne vorresti adesso una Non te la do Che bastardo! Come che bastardo? Sono troppo gentile No, no, è un sacchetto vecchio Quelle caramelle sono mie Te prima non hai provato a rubarmi, non va mica bene? Cosa, hai un'idea? No, 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 il vinegar è mio Ok Metti giù le Pringles, metti giù Voglio le ketchup Qua c'è un po' dal ketchup No, c'è aperto il sacchetto, sono uscito No, no, no Prova, sono buone Sono più buone quelle al vinegar Le Pringles al vinegar sono più buone Sei te che fai schifo, non le puoi Pringles, sei inutile, giochiamo qua che è meglio, va, non mi serve a niente come fratello, ma che è avvenenata, era buonissimo, giochiamo a leggenda perché siamo furbi, siamo fieri, ah cosa fai, c'è il problema del gioco. Sto col biondo, no, si, allora bene, ho fatto gol, sono troppo bravi, hai visto, grazie, grazie, troppo gente, Quanti fane hai? No, guarda quanti fane hai, eh? Sbuono, mi ricordo, quanti ne avevo sui 900? Dì, ma guarda quanti ci sono alla gara, eh, tanti ti devo dire. Quanti fai? Eh, poi, cioè, sono meno dei miei, i personaggini là dietro, guardali, guardali. Puoi mettere anche dei vestiti, dei gamboni? No, 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 no. i miei personaggi, sono belli così, a naturale, guardali, adesso vi preparo i potenziamenti, facciamo fuori questo po', niente cheat, ma che cheat, sono potenziamenti legali questi, illegali hai detto, no ho detto legali, ma hai detto illegali o come legali? ho detto legali, solo che te sei sordo, visto e sono troppo bravo, l'arbitro mi ha aiutato, arbitro qualifichi questo guadapette? questo c'è anche il gramofo qua adesso tanto entra, non sai, non sai che entra? troppo, hai visto se sono bravo, se sono bello, se sono famoso guardalo, guardalo... basta fine della partita puoi anche usare tutti i tuoi skill più oscure ma lascia perdere non fa altri punti va via te gioco io testa il mi fermo va via 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 niente pubblicità facciamo un'altra partita visto 946 954 è un'altra partita cos'è che hai detto più bella questa si guadagna abbastanza bene che la gente triste salto ora che arriviamo biondo non ce lo fanno niente stai fermo stiamo vincendo siamo 1 a 0 stai fermo stai fermo stai fermo stai fermo no no ma dai perchè vencerai no vincerò stai fermo stai l'avevo presa con il cartellino a cobalino ma che cartellino a cobalino siamo già riusciti e ci siamo veloci solo alti 50 km solo? eh ma allora siamo bravissimi ma mai me l'avevo preso queste baracque no no l'avevo preso dopo dopo se vuoi te lo faccio rivedere l'avevo preso comunque questo è giusto questo è giusto anche questo era giusto anche che giustissi oh guardalo 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 all'ultimo eh e io uso questo? non puoi eh no non puoi no non puoi basta se proprio te lo faccio vincerò io se proprio devo vincerò io no non vincere solo pareggio eh eh e giù ti danno tutti i soldi ma ti danno tutti i soldi? si ci hanno ridato i soldi che abbiamo messo in paglia ma piove? chiudiamo il filestrino oh chiudiamo il filestrino uie un'altra partita la fei lo chiudo no ma cosa l'hai aperto? chiudi il filestrino che piove sei inutile sei un fratello inutile però ha detto che no non trovai scusa è un ragazzi che ha detto che sono bravo no ho detto che sei inutile guarda lui è di quella di fare ma non serve niente di quella di fare lui i soldi che ti da il gioco devi conservarli perché sono belli le fanno bella i diamanti ho addirittura sprechi i diamanti guardi guarda fatti far gol oh dai no no io sono più fiero di lui no no guardalo lì guardalo buongiorno oh dai l'ermo di cipio l'ermo di cipio l'ermo di cipio l'ermo di cipio si è cinta la testa dov'è la vittoria che forga la chioma che schiave dirò ah stai fermo che mi stai facendo fermo no sono in pareggio no no stanno incendendo proviamo in pareggio adesso però col finestrino chiuso c'è aria calda c'è caldo allaghiamo la macchina ebbè vuol dire che sta comunque piovendo ebbè vuol dire che sta comunque piovendo siiii poi arriviamo a casa dai pareggio pareggio no pareggio ah si pareggio volevo dire vittorio ma ho detto pareggio guarda ti ho anche ghiacciato a stile ebbè non si è riuscita a ghiacciarmi alla fine è inutile ebbè chi una cosa è inutile ghiacciare a due secondi dalla fine x facciamo un'ultima o basta va bene ultima il biondo ha detto ok no stai prendendo le caramelle guarda che bastardo non le hai prenditi in serio faccio quello che mi pare quando lo voglio dai fermo e non mangiarmi le caramelle questo sportino è mio quando adesso prima no no perchè non c'è internet non prende allora allenati stai fermo si sta riconnettendo dagli tempo e volevi probabilmente si dopo mi dice volevi internet no non ce l'hai basta fine adesso me la ritardo un'ultima partita aspetta segui Elena no io me la gioco tutti in leggenda perchè leggenda si guadagna bene e c'è la gente scarsa e non giochi maestro? no si guadagna bene in leggenda la gente è scarsa io vinco e siamo a posto è cittare ragazzi dici tutti cittare ma che cittare ma che cittare se sono bravo sono bravo te stai lontano da quella sportina se devo bene? no se devo prendere le... le... se devo prendere le vinegar no mangi dopo te le do io guarda il mio giallo eeeh vinco 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 sei troppo bravo troppo bravo troppo bravo chi è italiano? oh c'è una bandiera strana non so che bandiera sia adesso compi che è italiano? no se italiano c'è il sembro della bandiera italiana però adesso compi che è meglio lì ecco dentro no no questa è l'ultima partita quanto vuoi fare una grande un video? un'altra partita la faccio io però? no no questa è l'ultima ah dai faccio io no no un altro video adesso finiamo prima questo dai guardalo bagaglio c'è una live ma non prende neanche bene inter... guarda hai detto facciamo una live boom internet ha dato addio basta ciao vado in pensione ha detto non prendo più facciamo una live ma che è una live che non prende nulla cosa vuoi fare? basta basta ma cosa facciamo a casa? facciamo i saluti adesso ma cosa facciamo a casa? ma cosa vuoi fare a casa che c'è un internet orribile anche a casa? ma a me lo va più bene che qua beh quello indubbiamente ma non puoi fare un video con quello in internet che abbiamo a casa eeeh non si fanno le live con quella connessione che abbiamo noi oh ma due è live ok vabbè diciamo addio ai nostri telespettatori per oggi possiamo tornare domani o anche su un secolo ci mancherete youtuberini questo è stato un bel gioco giocatelo e basta no aperta 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 come va? no le caramelle non le prendi va via dalla sportiva stai lontano no ciao a tutti va via ciao a tutti va ciao 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 via ma che hai ti ho fatto così ma che hai ti ho fatto così ma che hai ti ho fatto ma rimettiti seduto rimettiti seduto rimettiti seduto ma facca miseria a te ti picchio con la bottiglia di fanta va via help him help basta ragazzi stiamo degenerando metti giù quelle car... basta